Cari amici, benvenuti. Un saluto dalla Cattedrale di Como. Domenica 28 ottobre, con il canto solenne dei Vespri, abbiamo esposto alla venerazione dei fedeli l'urna Volpi e sugli altari della Cattedrale trovate anche le reliquie dei Santi. Ma ci chiediamo perché questo gesto, perché questi segni. Noi siamo una comunità di Santi e noi siamo insieme ai Santi. Siamo una comunità di Santi per il nostro battesimo, per il battesimo che ci ha fatti rinascere a vita nuova e nel quale siamo stati costituiti come membra vive del corpo di Cristo che è la Chiesa. Viviamo di Cristo, viviamo nella Chiesa. Certo ci è più facile talvolta arrenderci a quella che è la nostra debolezza, arrenderci a quelle che sono le nostre manchevolezze e supporre che la Santità non sia per noi, non ci riguardi. Però la fedeltà di Dio non viene mai meno, non è mai venuta meno e non verrà meno. E la nostra Santità sarà il frutto della corrispondenza a quanto il Dio fedele vuole operare in noi. Siamo insieme ai Santi. Il Signore ce li dona come amici, come modelli di vita. Le loro reliquie ci ricordano la loro intercessione, un'intercessione amica e la loro esemplarità stupenda. Ci ricordano che come hanno fatto loro possiamo fare anche noi e non tralasceranno di aiutarci. Invochiamoli. Venendo in cattedrale sentiamoci coinvolti nella loro vita e sostiamo in preghiera dinanzi alle loro reliquie. Essi intercedono per noi presso Dio. Grazie. 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 Grazie.